bentornati su sai che web tv ciao a tutti da io pino da valeria da donato bene come state tutto bene fantasticissimo cosa ci raccontate di nuovo valeria cosa ci racconti tu io sono stata benissimo però mi siete mancati tanto donato e tu come sei stato sono stato bene ho anche mangiato delle belle cose delle novità novità che novità tu che sei sempre in giro raccontaci donato senti un caseplice di castellana fa dei prodotti dolce salato ho assaggiato per esempio la burrattina alla nutella fantastico buono ecco me aspetta facciamo così che ne dite se sai che ci organizziamo e andiamo a chiedere direttamente come si fanno e tutti i prodotti casa e ari che ci saranno all'interno sai che vi dico andiamo a scoprirlo insieme ciao a tutti siamo a caseificio cuor di puglia a castellana grotte in compagnia di claudio manfredi e gianmarco ripa claudio raccontaci come inizia una vostra giornata lavorativa ciao sono claudio manfredi e sono il proprietario del caseificio cuor di puglia di castellana grotta insieme a mia moglie semeraro antonella la nostra giornata tipo inizia con scendiamo il latte nei tini che è stato comunque raccolto dalla zona la sera prima perché lo lasciamo riposare nelle cisterne almeno 12 ore e poi cominciamo con la cagliata una volta tirata la cagliata dal latte andiamo sulla lavorazione dei nodini nodoni e trecce bene oggi in particolare cosa state lavorando oggi in particolar modo abbiamo lavorato in prima mattinata la mozzarella vaccina in seconda mattinata abbiamo cominciato con la lavorazione della bufala dalla mozzarella alla ricotta al cacio ricotta e al formaggio di bufala che è un semi stagionato che noi facciamo il cacio ricotta noi lo produciamo sia bianco che al peperoncino che al tartufo di bufala la lavorazione della mozzarella di bufala viene fatta a metà siero e metà fermento quindi abbiamo una lavorazione mista la fermentazione lunga dura almeno quattro ore prima che la cagliata arrivi a un'acidità per poterla lavorare e ora vediamo la mozzarella la lavorazione della mozzarella che viene mozzata a mano rigorosamente claudio e lavorate solo con il latte vaccino e bufalino no noi lavoriamo anche il latte di capra latte di pecora oggi abbiamo visto solo la lavorazione della bufala e della latte vaccino ma in settimana lavoriamo almeno per due giorni a settimana in modo alternato lavoriamo anche capra e pecora la lavorazione invece del cacio ricotta che abbiamo visto oggi abbiamo portato il latte a una temperatura dei 90 gradi l'abbiamo dovuta far scendere perché poi per cagliarlo bisogna portarlo a 37 38 gradi abbiamo messo il caglio e abbiamo aspettato che floculasse una volta floculato si passa nei fuscelli poi si gira e si passa in stufatura con nella vasca di stufatura una volta che è finita questa operazione la sera si deve raffreddare la sera si passa il sale e va in asciugatura in cella di asciugatura e formaggi e caciocavallo lo producete qui si caciocavallo e formaggi li produciamo sempre qui abbiamo una piccola cella di stagionatura dove riposano per almeno 30 40 giorni perché noi facciamo una media stagionatura dei prodotti e oggi abbiamo visto il formaggio di bufala il latte di bufala per il formaggio viene portato a prima una temperatura di 68 gradi viene termizzato il latte poi viene fatto scendere la temperatura fino a 36 gradi viene cagliato e poi viene lasciato riposare sotto siero fino a raggiungere una determinata acidità dopodiché si passa nelle fuscelle come abbiamo visto noi noi lo facciamo lo produciamo nelle fuscelle del canestrato pugliese per rimanere sempre in tema anche perché il latte rigorosamente pugliese sia di mucca che di bufala dopodiché passa in stufatura dopo va in sala insalatura che noi lo lavoriamo lo saliamo in sala moia lì resta per 12 ore e dopo passa in stagionatura per almeno 30 40 giorni Claudio e ci sono delle specialità che vi contraddistinguono sì noi oltre alla classica burratina che comunque viene prodotta con la pasta della mozzarella viene aggiunta stracciatella e panna produciamo anche burratine salate con speck crudo pomodoro e rucola o pomodoro e basilico e poi abbiamo anche quelle che abbiamo fatto un accostamento con quelle dolci con ricotta pere e cannella oppure con la nutella che comunque adesso sta andando abbastanza bene wow beh allora ma cos'altro realizzate con il latte sì noi oltre alle mozzarelle e al resto che facciamo produciamo anche stracchini formaggi freschi da tavola e poi cominciamo con gli yogurt dallo yogurt noi abbiamo 4 5 varietà diverse tra cui banana, mele e cannella, albicocca, fragola, ciliegia che comunque vengono sempre prodotti da noi in più riusciamo a fare anche dei budini, budino al cioccolato, panna cotta e cran caramel ringrazio di cuore Claudio Manfredi e Antonella Semeraro e anche il loro staff Rosana Di Brindisi e Gianmarco Ripa sai che? Può interessare o coinvolgere anche te! bianca bianca bianca